Ciao amici di Radio Uci, sono Gianluca e in questo Focus Fisco ti parlo di bonus idrico perché ci sono degli aggiornamenti. Innanzitutto ti ricordo che il bonus idrico viene riconosciuto nel limite massimo di 1000 euro per ogni beneficiario per coprire parzialmente le spese sostenute per interventi di efficientamento idrico nel corso del 2021. Con il comunicato stampa del 13 maggio il Ministero della Transizione Ecologica ha fatto sapere che il termine per poter inoltrare le domande è fissato al 30 giugno e ha anche reso disponibile il modello esercente bonus idrico tramite il quale il venditore certificherà le modalità di pagamento, le tipologie di beni acquistati e il totale della spesa effettuata dal beneficiario. In conclusione il Ministero ha spiegato che al fine di ottenere il rimborso i beneficiari devono presentare istanza entro la scadenza registrandosi sulla piattaforma disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica tramite speed o carta di identità elettronica. Per ora è tutto, al prossimo Focus!